A D'Angrigento oggi venerdì 16 febbraio nella sede dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo in via Bac Bac 7 si svolge dalle ore 17.30 in poi il primo di una rassegna di incontri letterari promossi e organizzati dalla stessa Accademia di Belle Arti Michelangelo. Protagoniste del primo incontro sono le opere di Federico Licalzi, poeta e scrittore che ha appena pubblicato una nuova raccolta di liriche tutto uguale a prima riunendo altre 59 poesie. Dopo i saluti del direttore dell'Accademia di Belle Arti il professor Alfredo Prado interviene il professor Nuccio Mula docente universitario e la giornalista Deborah Annolino ideatrice dello studio A D Communication che racconta le attività di social marketing che hanno aumentato la visibilità delle opere e dell'immagine di Licalzi. L'autore canicattinese Federico Licalzi pertanto ospite della rassegna promossa dall'Accademia di Belle Arti Michelangelo ad Agrigento presenta la sua ormai vasta produzione letteraria all'ultimo libro una raccolta di poesie di liriche tutto uguale a prima. Sì tutto uguale a prima appunto questo titolo vuole avere più significati nel senso che tutto uguale a prima è riferito ai temi che tratta il libro che sono rimasti invariati rispetto alle precedenti pubblicazioni però l'evoluzione si vede nello stile e nella forma della scrittura e tutto uguale a è riferito pure a un'idea di abbandono che il protagonista di questo libro ha ricevuto e vuole quindi questo tutto uguale a prima dimostrare che tu mi hai abbandonato ma tutto è rimasto uguale a prima. Tale raccolta è tra le opere protagoniste della rassegna dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo è un'occasione per presentarle soprattutto per farsi conoscere? Assolutamente sì sono onorato di questa manifestazione e di essere appunto parte integrante di questo progetto e con questa nuova pubblicazione stiamo girando un po' tutta la Sicilia abbiamo fatto diverse tappe qua nell'Agrigentino sabato scorso siamo stati a Palermo la libreria Macaione e prossimamente saremo anche a Catania penso alla libreria Feltrinelli e successivamente penso settembre-ottobre lo presenteremo anche a Bologna. In conclusione lei è un autore giovane di età quanto interesse vi è tra i giovani verso la poesia, la lirica, la produzione letteraria di tale tipo? Allora l'interesse è di diverso genere c'è un interesse superficiale quindi si rimane alla superficie della cosa non si va in profondità l'interesse è quello di una lettura veloce o di una scrittura veloce che quindi non vai a scavare nella materia oggi sempre di più i social network, i tablet e i cellulari che teniamo costantemente in mano cosa creano? Ci creano sempre una difficoltà maggiore e ci staccano sempre più dal foglio bianco o meglio dalla scrittura e dalla lettura perché per leggere occorrono degli strumenti, occorre un'immaginazione quindi occorre uno sforzo maggiore rispetto a un tablet che ci fornisce o a un cellulare o a uno smartphone che ci fornisce musica, ci fornisce immagini, ci fornisce tutto già pronto. La giornalista Deborah Anolino è l'idiatrice, la coordinatrice di AD Communication si tratta di un'attività di social marketing nel senso che si utilizzano i mezzi di comunicazione di massa nella fattispecie ai social per promuovere un argomento, una personalità, una iniziativa nella fattispecie Federico Licalzi. Esattamente, dal 2008 abbiamo intrapreso e ormai consolidato con lo scrittore e poeta Federico Licalzi un percorso di promozione e di divulgazione delle opere ma anche dell'autore stesso attraverso i strumenti social, quindi quello che è il mondo digitale ma anche il sito web ma senza per questo tralasciare i media tradizionali o gli eventi appunto di presentazione. Diceva appunto l'autore che siamo in questo momento in una fase itinerante di presentazioni quindi Palermo, Agrigento e non mancherà certamente Catania. Questo perché vogliamo avvicinarci comunque a giovani in generale, a nuovi lettori ma soprattutto trovare un punto di contatto con i giovani perché in questa società che evolve e che va velocissima c'è comunque tempo e spazio da dedicare ad un genere evocativo come la poesia. La tua attività è una delle più all'avanguardia, è una delle più innovative e probabilmente anche richieste? È un'attività richiesta, è un'attività di cui oggi le aziende, i professionisti tendono a non farne a meno. Quella che è la nostra scommessa è sostituire in parte la pubblicità, quindi to cure, con l'informazione perché un'azienda può essere notiziabile e quindi può essere raccontata proprio come informazione non come semplicemente una parte pubblicitaria.